Molti di voi ieri hanno girato per le città, cioè cosa hanno fatto i DJ, che cosa hanno fatto le Lady Pantera, ma che cosa avranno fatto Adarona, cioè che cosa si fa Adarona nel centro del mondo? Adarona la domenica si passeggia nel budello con le tipe che ti guardano un ombrello, Adarona se vuoi arrivi con la barchetta e la sera vai a ballare in rocchetta, come on, seguimi. Se ti porterò per mano, piano piano, se tu arrivi da Milano, dal Borgomanero oppure da Gozzano, sei Adarona, Adarona è bella, più di Romano. Ragazzi, Adarona ne tipe di guardare l'ombrello, eh? Lo stesso ragazzo ci canterà una canzone tutta dedicata al radio DJ, ma tra poco, intanto arriva la Lady Pantera.